Da sabato entrerà in vigore il divieto di scalare l'Ayer Rock, la celebre montagna di Arenaria Rossa sacra agli aborigini australiani con il nome di Uluru. E in queste settimane sono stati tantissimi turisti che si sono messi in coda per scalarla. Sono felice di aver fatto questo lungo viaggio e di essere arrivata fin qui, non sto nella pelle. La decisione è stata presa quasi due anni fa dalla direzione del parco dopo anni di dibattiti. È una sensazione forte. Prima ancora che nascessi, i nostri vecchi hanno fatto questa battaglia e noi la portiamo a compimento. C'è un po' di tristezza, ma anche una grande soddisfazione per adempiere alla volontà dei nostri cari. La data non è casuale. Ricorda il 34esimo anniversario della riconsegna dei diritti sulla terra al popolo Anangu, che considera sacro il massiccio. Grazie.